Ciao ragazzi, oggi in questo video parleremo del tema ex bonus renzi che è il contributo IRPEF che viene erogato in busta paga mensilmente però per tutti coloro che non hanno percepito in busta paga questo bonus come possono recuperare? ora è molto semplice per quanto riguarda ci sono dei limiti redditoriali da 15.000 annui poi fino ad arrivare a 28.000 annui che in questo range del reddito si potrebbe recuperare bonus, ex bonus renzi e come si fa se non si percepisce mensilmente? allora, semplicissimo, fine anno quando ci sarà il conguaglio no, nella busta paga di decembre e poi a chi spetta viene erogato il bonus renzi tutto completo, tutto quello che spetta invece, se non fosse così, l'alternativa è quando farete nel 2023, quando farete la dichiarazione di redditi in quel caso potreste ottenere il bonus che non avete ottenuto nell'anno precedente, cioè nel 2022 nel 730, sicuramente quando presenterete la dichiarazione di redditi di 730 e in quella fase lì vi verrà erogato se vi spetta però, come vi ho già riferito che non deve superare la soglia di 28.000 euro, il vostro reddito annuale ora, spero che questo video vi è stato utile, vi è piaciuto gentilmente condividete con i vostri amici ciao ragazzi